Rendiamo il gioco ancora più spaventoso Certo! Possiamo fare finta che ci sia la giungla di fuori Dove ci sono dei veri animali della giungla Ora abbiamo bisogno di un animale della giungla Per esempio una tigre! Oh! Io la so fare bene la tigre! Miau! Io la so fare bene la tigre! Ma mi prendi per il culo?